C'era una volta in Italia un festival reggae chiamato Rototown Sunset. Ora questo festival reggae non c'è più in Italia. E' dovuto spiegarsi in Spagna. Come mai? Perché? Chi l'ha deciso? Come mai 200.000 persone che vanno a vedere Rototown Sunset Blastora sono costrette di spostarsi altrove e non poter gustarsi un po' di reggae musica, di fumare una carnetta e di non farle male a nessuno? Come mai? Ma come siamo criminali noi? Beh, adesso siamo tutti criminali. Perché invece di andare avanti stiamo andando indietro. Ricordate Bob Marley? Ve lo ricordate no Bob Marley? Beh, io non sono un politico. Io canto. E l'unica cosa che posso fare è cantare una canzone per il Rototown Sunset Blast. Per alimentare! Prima di fare un retirement. Grazie a tutti.